il vangelo di oggi ci invita a rinnovare nei nostri cuori lo spirito missionario il cristiano e missionario per vocazione il primo e più importante compito avuto dal nostro battesimo e testimoniare l'amore di cristo in mezzo ai fratelli e ai non credenti ecco la missione per questa prima domenica di quaresima la testimonianza cosa vuol dire per te il vero potere e il servizio cerchi l'approvazione degli uomini più che l'approvazione di dio in quali ambiti della tua vita satana riesce ancora a tentarti